Tutti ragazzi sono Pier Giorgio, oggi facciamo un video flash, è giunto proprio il momento di proteggerci dai vermi delle pere. Che cosa sono i vermi delle pere? Praticamente è una farfallina piccolina, si chiama sesia, che in questo periodo va svolazzando per i nostri alberi e quando incontra il sederino della pera qui dentro proprio ci deposita le uova. Le uova si schiudono e i vermetti si mangiano il nostro interno della pera, quindi quando siamo a raccolta, a maturazione, la pera è inutilizzabile. Come possiamo fare per proteggerci da questi attacchi? Si possono utilizzare le trappole biocromatiche, queste sono completamente bio, si fanno in casa, vi do in fondo al link, in fondo al video scusate il link di riferimento, vi si aprirà un altro video che trovate come si fanno queste bottiglie cromatiche, ci sono anche tutte quante le soluzioni per i vari insetti, ma per chi ha una pianta sola può utilizzare anche quest'altro modo che mi è venuto in mente oggi. Come si può fare? In modo molto semplice, si prendono questi sacchettini, ok, e si vanno ad infilare dentro i nostri frutti, in questo modo qua, poi tiriamo i laccetti, facciamo aderire senza stringere troppo i laccetti al piede del frutto e questo è protetto perché la farfallina non riuscirà proprio svolazzando andare a deporre le uova all'interno del nostro frutto, ma il frutto allo tempo stesso riceverà luce, aria, perché passa aria, umidità e al contempo mentre cresce questo laccetto si allargerà automaticamente. Abbiamo in questo modo protetto i nostri frutti senza troppi diciamo accorgimenti e senza utilizzo di veleni. Questi sacchetti poi ne troviamo di tutte le misure quindi non è un problema andare in sacchettare tutte quante le nostre pere, se sono più grandi o più piccine quello non è un problema. Magari alla fine non sarà bello vedere un albero che sembra un albero di natale, però vi assicuro che il sistema funziona e mangeremo frutti sani, senza vermetto, rispettiamo la natura. Ciao ragazzi, vi saluto, ci vediamo alla prossima.